Lo spettro dei led fornisce la ricetta luminosa ideale ad ogni stadio di crescita. Le lampade a led forniscono l'intensità luminosa esattamente richiesta dalle colture. La gestione efficiente del calore consente un maggior controllo del clima e riduce le necessità di raffreddamento. Poiché i led producono poco calore radiante, è possibile posizionare la fonte luminosa molto vicino alla coltura. La lunga durata riduce la necessità di sostituzione delle lampade. Con i led abbiamo minori costi energetici in confronto alle lampade tradizionali.